Una a due giorni dedicata al Sud, ai problemi del mezzogiorno, discussioni ed interventi per individuare e promuovere soluzioni possibili e soprattutto fattibili e in tempi brevi. Sabato 12 e domenica 13 novembre, nel Palacongressi della Fiera d'Oltremare a Fuorigrotta, andrà in scena l'Assemblea Nazionale del Mezzogiorno, Politica, Economia e Lavoro, tre facce della stessa medaglia, chiamata sviluppo. Tanti nomi che si alterneranno all'evento promosso dal Governo, dalla Regione Campania e da Union Camere. L'introduzione sarà lasciata al Governatore Vincenzo De Luca, si parte alle 9.30 circa, con la discussione su Economia e Società. Nicola Rossi, Gianfranco Viesti, Andriano Giannola, Ernesto Galli della Loggia, Sabino Cassese, Paolo Scuderi, alcuni dei nomi previsti nella mattinata. Politica ed imprese, una discussione più tecnica, quella del pomeriggio, con inizio alle ore 15, Carlo Calenda, Claudio De Vincenti, Giulio Tremonti, Gianni Pittella, Angelino Alfano, i tecnici che leggeranno le loro relazioni. Governo e sviluppo, il leitmotiv di domenica. La giornata conclusiva vedrà come rappresentanti di Governo Vincenzo Boccia, Vincenzo De Luca e Premier Matteo Renzi. Passando dalla teoria alla pratica, sulla scia dell'argomento politica ed imprese, da sottolineare l'accordo sottoscritto al Mise per la denso industria, che produce impianti termici e finalizzato a promuovere investimenti tra Campania e Molise. Circa 58 milioni di euro, 11 milioni in Molise, 47 milioni in Campania. Il protocollo prevede lo studio e la messa a punto di soluzioni tecnologiche avanzate e di linee di produzione innovative, inclusi processi sviluppati attraverso i concetti Smart Factory e Industri 4.0.